ciao amici scusate disabilire ma qui nel mio studio fa parecchio caldo allora voglio provare a fare un pezzo dei toto si chiama davis gonsking ci vuole un pochino d'attenzione per il suo grado di difficoltà ci provo mettiamo le basi tiriamo via quello un pochino Grazie a tutti. 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 Ciao.